ecco siamo venuti oggi pomeriggio dopo del lavoro io e la patrizia a dargli un'occhiata del bosco sopra casa ecco qua ci sono un po di rifinferle ora le raccogliamo intanto la patrizia gli dà un'occhiata in giro per vedere se ce ne sono altre raccolte queste mettiamo nel cesto e continuiamo ecco questa è la presa da patrizia andiamo avanti patrizia ha trovato appena queste appena ora queste e ora raccogliamo e poi vediamo tiriamo le somme ecco qui in questo bosco c'è anche lo steccherino ma noi non lo raccogliamo questo è un buon commestibile ecco ci stiamo raccogliendo queste finferle e giriamo tutto qua intorno dove c'è tutto il mirtillo e vediamo che risultati facciamo ecco la patrizia ne ha appena trovato un bel gruppetto abbastanza abbastanza grossi ora le raccogliamo e ve li facciamo vedere ecco in un metro quadro abbiamo raccolto più o meno un metro quadro sì neanche abbiamo raccolto queste bene bene andiamo avanti un po più su ce n'è una marea sembrano seminare guardate qua quanto guardate tutti di un'ottima taglia bellissima anche su lì ora raccogliamo queste e poi le vediamo insieme ecco intanto ho raccolto queste ora vado a mettere nella cesta patrizia sta raccogliendo ha raccolto anche queste ancora qui in questo altro metro quadro ce n'è penso altri due pugni ora raccogliamo e boh e andiamo avanti ecco altri stercherini altri stercherini belli raccogliere soltanto che noi non non li consumiamo quindi li lasciamo qua ora cerchiamo di trovare un altro filone diciamo di finferle questi cantarellus luce e scienza sono eccezionali hanno sono ottimi ottimi caratteristiche buonissime con la volenta specialmente ho raccolto queste va benissimo ora ci spostiamo in un altro posticino qui giù che un pochettino più umido credo di poterne trovare altre si sta facendo quasi buio ora ne abbiamo trovato un'altra piccola colonia qui raccogliamo queste e poi si sono fatte le sette e andiamo andiamo a casa ecco ora veramente basta se ne torniamo a casa con calma e alla prossima al prossimo video ecco che ci avviamo verso casa poccini non ce n'è ovviamente si sono fermati ma penso che la prossima settimana qualcosa si potrà trovare abbiamo preso queste finferle in circa un'oretta e qualcosa ora si è fatto tardi andiamo a casa